Ci troviamo a Bordighera, il comune più a sud di tutta la Liguria. La leggenda vuole che nel quinto secolo dopo Cristo l'eremita egiziano Ampelio sia sbarcato sulla costa, portando con sé i semi della palma da datteri, ed abbia trovato rifugio in una grotta. E risalendo il promontorio sovrastante Capo Ampelio, si attraversa la fortificazione cinquecentesca del Marabutto, e si raggiunge la città vecchia. Da visitare, oltre i vicoli caratteristici, la parrocchiale di Santa Maria Maddalena del XVII secolo, che conserva le reliquie di Sant'Ampelio. Dal Capo si può imboccare anche il lungomare argentina, così chiamato dopo una visita di Evita Perón nel 1947. Come Sanremo, la città è stata una delle mete preferite degli inglesi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, merito anche di Giovanni Ruffini e del suo romanzo Il Dottor Antonio, ambientato proprio a Bordighera. Il turismo d'élite ha arricchito alla città di opere d'arte ed architettura, come il primo museo delle rigure occidentali, fondato dal reverendo Clarence Bicknell, il primo tennis club d'Italia del 1878, la villa di Charles Garnier e la villa della regina Margherita, che ospita oggi importanti mostre d'arte. Una notevole testimonianza di quanto la città sia stata musa ispiratrice per molti artisti è data dalla fondazione Pompeo Mariani. Nel rigoglioso giardino della sua villa si trova la Specola, l'atelier-museo che conserva ancora oggi un'incredibile quantità di materiali ed attrezzi originali per dipingere e ricreare scenografie. Tra i grandi nomi dell'arte che hanno dipinto, disegnato e fotografato Bordighera, spicca Monet, innamorato della luce e dei colori della regina delle palme.